Non solo prodotti del mare, gastronomia, degustazioni, cooking show ed expo village, anche quest'anno Azzurro Food dedica ampio spazio alla musica e agli spettacoli. Musica che stasera sarà protagonista dapprima con l'esibizione di Petit a partire dalle 22.30, cantante rivelazione del 2024, uno degli ospiti di punta di questa edizione, e poi con lo spettacolo dei Malaluna. Apprezzatissimo, gruppo musicale Saccense pronto ad intrattenere e a far divertire il pubblico di Piazza Angelo Scandaliato. Intanto ringrazio la Futuris, Giuseppe Corona, Antonio Di Marca per averci dato questa possibilità di inaugurare la musica live per quanto riguarda questa manifestazione che negli anni è diventata forse una delle più importanti a livello regionale. Quest'anno sì, diciamo, condividerò il palco con i Malaluna, che è una band emergente, molto molto interessante, e appunto seguiremo l'esibizione di Petit, che è uno dei giovani, diciamo, talenti emergenti della musica italiana. Quindi per noi è una doppia responsabilità, cioè quella di intanto aprire, fra virgolette, le esibizioni live e quello di rappresentare anche, diciamo, Shaka, perché saremo l'unica band Saccense a esibirsi nei giorni appunto di Azzurro Food. Musica che si inserisce perfettamente in un contesto come quello di Azzurro Food. Sarà un momento di condivisione e di gioia, perché appunto noi sostanzialmente poi concludiamo la giornata fatta appunto da tutta una serie di eventi, ho visto il calendario, è ricchissimo di eventi. E appunto il nostro obiettivo è proprio quello di dare gioia e di appunto far partecipare il più grande numero, il più grosso numero di persone, cercando appunto di dare loro un'oretta e mezza, due retta di piacere, di condivisione appunto musicale. Uno spettacolo all'insegna del divertimento. Noi in premis ci divertiamo quando siamo insieme, quando siamo sul palco, in scena e quando questa gioia e questo divertimento arriva e diventa contagioso, ci divertiamo ancora di più, motivo per cui siamo qui insomma per invitare tutti a partecipare e a farsi contagiare da questo divertimento. Ricordiamo anche che tipo di musica fanno i Malaluna. Noi ci identifichiamo nel pop, però a me piace più utilizzare un termine universale, l'universalità, perché accogliamo vari in realtà generi, quindi varie atmosfere, vari mood, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti e insomma contentiamo tutti.